sta per iniziare sta per iniziare sono già in linea per iniziare webinar con la fiaip fantastico vuoi vedere come sono apparecchiato adesso ti faccio vedere come sono messo è allora qui abbiamo il computer che trasmette con la webcam che mi riprende e sullo sfondo la cucina qui abbiamo il microfono super professionale fantastico qui abbiamo l'altro computer che invece mi fa vedere che cosa sta succedendo mi vedi lì sì che mi vedi e qui abbiamo il beveraggio che come vedi è grappa non è acqua il sottoscritto che è pronto è prontissimo per dare il suo massimo agli iscritti della fiaip è un software un po particolare un po strano go to webinar non lo conosco ma vedrai che mi arrangio vedrai che mi arrangio se sei lì e sei pronto per iniziare questa avventura io ci sono buona pasqua